1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ragazzi buongiorno, terza lezione di scacchi per scamo... Principianti, mettiamola così Allora, per i più attenti di voi c'è un filo conduttore che unisce le lezioni finora svolte ovvero sia, nella prima abbiamo visto come noi attacchiamo quelli che sono degli pedoni doppiati e isolati su colonna aperta facilmente e gentilmente regalati all'avversario nella seconda creiamo fin dall'apertura questi pedoni doppiati e tendiamo poi a volere aprire una colonna facilmente per andare ad attaccare in questa terza partita che andremo a vedere il concetto sarà più o meno simile ma vediamo di arrivare alla posizione per capirlo ricordo sempre che sono posizioni tratte da mie partite lampo quindi anche cariche di errori anche con procedimenti abbastanza semplici ed evidenti ma saranno abbastanza utili e sono utili per spiegare le cose ai giocatori diciamo di livello basso il livello delle lampo è sempre sui 2002 qualcosa vale anche in questo caso io sono il bianco quindi andiamo velocemente a vedere la partita non mi soffermo sull'apertura perché come ben sapete e come non mi stancherò mai di ripetere non va studiata l'apertura fino almeno a livello di caneto maestro ma createvi la vostra apertura analizzate le vostre partite e cercate di non ripetere i vostri stessi errori in fondo l'apertura è questo solo che sono le vostre errori che dovreste andare a studiare e non quelli altrui perché io sono contrario a imparare a memoria sequenze di mosse giocate da grandi maestri di cui voi anche io a volte non capite il significato quindi vado velocemente perché l'apertura è di poco interesse e arriviamo a questo punto specifico bene arrocchi eterogenei e devo dire che il nero si trova già leggermente in vantaggio nella corsa ad aggredire l'arrocco dell'avversario perché abbiamo lasciato entrambi indietro dello sviluppo i due cavalli contrapposti io ancora devo arrivare a spingere in h5 ed eventualmente a sfianchettare il mio avversario cosa che non riesco a fare perché non sono riuscito a mettere in batteria diagonale donna e alfiere dovrei avere l'alfiere in e3 o in f4 la donna in d2 o in e3 per riuscire a sfianchettare quindi per poter sfianchettare dovrei quantomeno fare h5 cambiare poi fare alfiere h6 ma la procedura è abbastanza lenta il nero viceversa si trova già con degli fieri ben posizionati e puntati sul mio arrocco attaccando un pedone indifeso cosa che evidentemente si viene a creare ogni volta noi arrocchiamo lungo ecco il perché voi avrete visto in molte partite di grandi giocatori loro previscono perdere un tempo giocando re b1 appunto per evitare debolezze che poi in situazioni particolari si potrebbero rivelare diciamo di difficoltosa risoluzione io piuttosto che fare re b1 e lasciare questo alfiere libero di agire su questa diagonale preferisco andarla a bloccare istantaneamente e proporre un cambio cercando di impedonare l'avversario nel punto e6 a questo punto la variante migliore per il nero sarebbe stata cambio cambio donna d5 attaccando sia la donna in c4 sia il pedone in g2 e se io giocassi per esempio donna f1 per difendere g2 lui mangerebbe in a2 con netto vantaggio da parte del nero quindi sarei obbligato a riprendere porterei un suo pedone da c verso d quindi dandogli una maggioranza centrale di 2 contro 1 dovrei difendere quel pedone continuerei a questo punto per crearmi una specie di controggioco e diciamo arriverei a una posizione di pressa poco parità ma io già ci vedo un leggerissimo vantaggio per il nero dovuto al fatto che il suo alfiere attacca i miei pedoni deboli e c'ha una colonna c aperta sul mio arrocco oltre che un attacco di minoranza che in caso di aggressione sull'arrocco nemico è sempre una cosa buona lui invece ha preferito giocare donna c8 per riprendere in e6 di donna io continuo chiaramente non gli porto la donna in una posizione migliore cambiando io ma lascio tutto il mondo fermo con me questo è un concetto che ricordo sempre per i giocatori principianti non dovete aiutare l'avversario a migliorare la posizione dei propri pezzi ovvero in questa posizione io c'ho un alfiere ben posizionato e una donna che lo difende lui c'ha un alfiere ben posizionato e una donna che lo difende il primo che cambia porta l'avversario ad avere un altro pezzo ben posizionato se lui cambia avrà la donna in c4 se io cambio lui avrà la donna in e6 quindi va mantenuta la tensione io gioco quindi h5 decide lui di cambiare e ora attenzione a questo particolare non si può prendere il pedone e5 perché seguirebbe la semplice presa presa donna h4 minacciando matto in h7 torre 8 scacco alfiere h6 e matto questi sono dei concetti abbastanza semplici motivo per cui lui qua decide di posizionare la donna in e6 al posto dell'elfiere quasi quasi obbligandomi a catturare la donna in e6 perché è evidente che se io sposto la donna lui mangerebbe nei due se la difendo in maniera bovina con b3 lui cambierebbe doppiandomi i miei pedoni e lasciandoli isolati anche se su colonna chiusa ma creandomi un vantaggio strutturale come ho detto più volte e altresì giocare mosse come torre h4 avrebbe poco senso ma qua siamo in presenza del light motif della partita ovvero sia io qua vedo subito l'opportunità di andare in netto vantaggio creando nel raggruppamento nero delle debolezze strutturali di lungo termine e come ho detto nelle precedenti lezioni noi dobbiamo sempre crearci degli obiettivi da seguire posizionalmente a lungo termine ovvero questi a differenza delle volte scorse noi abbiamo creato se ci fate caso abbiamo creato dei pedoni doppiati e isolati nella prima lezione su colonna c aperta nella seconda lezione di nuovo pedoni doppiati e isolati su colonna c chiusa che poi abbiamo aperto sempre su colonna c e ho già detto che ci sono delle particolari motivazioni per cui è più facile crearli su colonna c in questo caso non è la colonna c e non è una colonna aperta ma è anche difficile che venga aperta questa colonna perché per farlo dovrei consentire a lui di prendersi il mio pedone e poi di fare pressione cosa che non intendo fare qua prima di analizzare la posizione del suo complesso bisogna fare un'altra mossa ovvero cambiare in g6 di modo che mi sono garantito una colonna aperta vicino al suo arrocco che colpisce anche le case aure scusate sempre per le scamorze all'ascolto le case aure sono le case intorno al re a una casella di distanza è posizionalmente corretta e giustificato soprattutto per i giocatori di attacco controllare le case aure avversari in questo caso io ne sto controllando due h8 e h7 bene fine piccola spiegazione complicata ma giusto per la terminologia allora questa è la nostra posizione di partenza che io già giudico di netto vantaggio per il bianco tutto il resto sarà semplicemente una dimostrazione tecnica di come andare ad attaccare i pedoni deboli avversari il nero ha tre isole pedonali di nuovo come nella famosa seconda lezione una da questa parte due questa e tre la terza io ne ho due ho un pedone un po' troppo spinto che quantomeno dovrà andare subito a difendere lo possiamo difendere in due modi anzi in tre modi fondamentalmente spostando la torre in e1 che non è il modo corretto perché noi usiamo grande torre per difendere piccolo insignificante fettende pedonia oltre che togliere la torre dalla colonna giusta altro modo sarebbe mettere il cavallo in f3 ma 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 come ho ripetuto nella prima lezione è posizionalmente quasi scorretto mettere i propri pezzi soprattutto i cavalli davanti ai propri pedoni lasciati ancora in settima in questo caso in particolare su colonna aperta dell'avversario il mio cavallo sarebbe per sempre condannato a difendere piccolo fettende insignificante pedoni e io non ho intenzione di risolvere la cosa se togliessi il cavallo perderei subito il pedone f2 in questo particolare caso basterebbe la semplice torre f5 per costringermi a spostare una delle mie torri a difendere il pedone quindi l'unica mossa corretta è giocare f4 che è vero si andiamo a mettere un pedone diciamo su casa scura dell'alfiere avversario ma in questo momento a noi interessa limitare il pezzo migliore del nero ovvero sia l'alfiere g7 allora questa è la nostra posizione diciamo che fino a qua abbiamo fatto mostre praticamente obbligate cominciamo a pensare a come si potrebbero attaccare questi famosi pedoni soprattutto il pedone e6 la prima cosa che salta all'occhio è noi abbiamo alfieri cioè un alfiere su casa scura non potrà mai attaccare il pedone e6 né il pedone c6 né il pedone g6 quindi il candidato più plausibile ad attaccare il famoso pedone e6 sarebbe il cavallo che da g1 dovrà andare in f3 e possibilmente in g5 o in d4 è meglio g5 perché g5 è un avamposto ovvero sia una casa difesa da nostro pedone inattaccabile da pedoni avversari mentre invece d4 non è un avamposto perché non c'è nessun pedone che lo difende e in futuro potrebbe essere attaccato dal pedone c5 inoltre il cavallo in g5 controllerebbe due case aure del re nero impedendo altresì al re nero di andare in f7 a difendere il pedone e6 quindi la nostra mossa potrebbe essere quella di fare cavallo f3 e cavallo g5 e minacciare la cattura del pedone lui per difenderlo avrà fondamentalmente due mosse anche loro di cavallo perché anche lui c'è lo sfiere campo scuro ovvero cavallo a6 e cavallo c7 o cavallo c5 in entrambi i casi condannandosi a una posizione passiva inoltre noi abbiamo già la torre su colonna d la torre sarà pronta quando si toglierà il cavallo ad andare su d7 e attaccare l'altra debolezza il pedone e7 inoltre potremmo sicuramente mettere l'alfiere in e3 che impedirà la spinta del pedone in c5 condannando il pedone a essere quasi arretrato e impedirà a sua volta il cavallo ad andare in c5 motivo per cui di tutto questo insieme di cose unite anche al fatto che con la torre contro la colonna h il bianco è in netto vantaggio ora sarà solo questione di tecnica quindi inutile per il nero giocare g5 con la speranza che è f per g per l'alfiere e5 prendendosi un pedone centrale perché giocherà i g3 quindi il nero deve giocare cavallo a6 cavallo f3 e ora lui comincia a fare una serie di piccole imprecisioni ovvero sia mi gioca cavallo c5 la mossa migliore sarebbe stata cavallo c7 come ho detto a che io avrei potuto rispondere con per esempio g3 che serve a sostenere questo pedone una volta per tutte e a preparare cavallo g5 ora su cavallo d5 segue subito cavallo g5 su torre df in d8 alfieri in e3 torre d5 torre d4 attenzione che questa è una mossa fondamentale ricordiamocela sempre ovvero sia mettere la torre in una posizione difesa dei propri pezzi per poter raddoppiare non andiamo chiaramente a mangiare in d5 per non spedonarlo torre d8 torre c4 e ci andiamo a calare il pedone c6 con chiarissimo vantaggio quindi anche qua sarebbe andato in una posizione superiore ma almeno lui avrebbe avuto le torri incolonnate cavallo c5 è peggio ovvero cosa avrei dovuto giocare io io avrei dovuto giocare istantaneamente cavallo g5 condannando il cavallo a stare in c5 per difendere e6 ma alla prossima mossa avrei giocato alfieri e3 obbligando il cavallo a spostarsi in qualunque posizione finalmente avrei potuto catturare in e6 questa è un'imprecisione ma è un'imprecisione che si fa sentire perché io invece ho giocato istantaneamente alfieri e3 che non è buona come cavallo g5 infatti lui gioca cavallo d4 cominciando a rendere un po' troppo attivo quel cavallo che può andarsene in g3 e eventualmente anche in f2 torre d7 subito la torre se ne va in settima per aggredire l'altra debolezza e qua fa lui un altro errore tipico dei giocatori scadenti avrebbe dovuto giocare chiaramente cavallo g3 torre 1 per impedire lo scacco di cavallo alfieri h6 finalmente libero di andare in h6 non c'è più la torre cavallo d4 presa presa torre per f4 cavallo per e6 con vantaggio del bianco perché c'è il pedone e7 il pedone c6 e il pedone c6 che sono ancora fondamentalmente deboli ma il nero avrebbe quantomeno un certo controgioco è dovuto tutto l'errore mio di non fare subito cavallo g5 lui invece fa una classica mossa dal giocatore scadente come ho detto ovvero sia fattore di fn8 non mi stancherò mai di ripetere le torri non devono giocare in posizione passiva meglio meglio una torre che va in controgioco dando i pedoni dandoli perché in questo momento quella torre vedetevi conto non fa più niente è un pezzo che non fa niente mentre la mia torre qua rimanendo ferma attacca 1 2 3 4 5 6 7 case del campo avversario rimanendo ferma la sua torre da questa posizione attacca 0 case avversarie e tende solo a difendere questa casa rimanendo ferma notate la differenza fra l'attività delle due torri e gli scacchi sono un gioco dove è l'attività a decidere la partita ne approfitto per raddoppiare lui ne approfitta per mettere l'alfiera in H6 non posso fare G3 ne approfitto per scacciare il fetente cavallo che già mi dava un po' di rompi rotture in E4 e la torre minaccia anche di posizionarsi in C4 è importante sempre che i nostri pezzi riescano contemporaneamente ad attaccare due debolezze del campo avversario per esempio la mia torre se da D7 la mettessi in C7 attaccherebbe sia E7 sia C6 lui sposta il cavallo torre C4 e ora se lui giocasse torre di A in C8 potrebbe seguire alfiere B6 attaccando l'altro pedone in A5 quindi gioca torre A6 condannando un'altra torre a difendere il pedone notate due torri attive due torri passive tutto perché ha i pedoni strutturalmente deboli io sto fermo e ne approfitto per migliorare la posizione dei miei pezzi senza peggiorarla chiaramente non metterò il cavallo in G5 e fino a quando non ci potrà andare libero di non essere cambiato Re D2 la mia idea è di andarmene con Re E1 Re F2 a infastidire il suo cavallo Re F7 ne approfitta per difendere le debolezze qua faccio un'altra imprecisione perché gioco Re E1 questa è una cosa che capita sovente nell'ampo ovvero sia immaginiamo un percorso di un pezzo in questo caso il Re e tendiamo nelle mostre successive a giocare sempre lo stesso pezzo per fare il percorso pensato adesso sarebbe stato molto meglio invece cambiare pezzo e giocare alfiere F2 cavallo H5 G4 ora se cavallo per F4 G5 e guadagniamo il pezzo se alfiere per F4 Re E1 e di nuovo guadagniamo il pezzo quindi io invece ho giocato un'altra imprecisione ho fatto Re E1 ma ricordiamoci che in questa posizione io mi sento già la partita vinta magari avrò avuto anche poco tempo quindi sono abbastanza rilassato G5 dandomi un pedone pur di liberarmi non prendo di cavallo importante perché il mio cavallo ha un bellissimo radioso futuro davanti a sé F per G5 Re G7 Re F2 come ho detto prima cavallo F5 attenzione anche a questo punto il suo cavallo sta in una bella casa ma fra poco io potrò fare G4 indi non gli devo permettere a un pezzo futuramente fetente cioè fetente nel futuro di andare a cambiare un pezzo bellissimo mio e metto l'alfiere in una posizione che e mi sto rivolgendo a quanti di voi siate ancora a livello basso seconde prima e così via è importante ovvero sia alfiere e cavallo a due case orizzontali o verticali di distanza si chiama dominazione reciproca l'alfiere messo qua controlla due e due quattro case del cavallo in cui si può spostare il cavallo assolto controlla due e due case in cui l'alfiere si potrebbe spostare alfiere e cavallo in questa posizione si controbilanciano tutto sta a vedere a chi tocca muovere in il mio caso l'alfiere controlla anche un'altra sua debolezza E7 siamo già a due pezzi su E7 alfiere in F8 dando una casa al cavallo dopo G4 e difendendo E7 G4 cavallo G7 ora la mia idea è quella di impedire che il re possa fuggire con re G6 e re H7 e mettersi al sicuro e vorrei anche spingere il pedone G6 per levare il re dalla difesa di E7 ed E6 quindi avendo il pedone E5 libero di attacchi mi permetto di giocare cavallo H4 che controlla un'altra casa aurea e minaccia un potente scacco di torre in F4 torre C8 difendendo un altro pedone perché non sa più quali pedone difendere G6 G6 qua sarebbe stata ottima anche e abbondante torre F4 con minacce grandissime a seguire invece G6 re G8 se avesse messo il re in E8 semplicemente avrei tolto la torre e l'avrei messa in B7 mantenendo l'attacco o avrei potuto fare anche torre DC in D4 indifferente re F3 con calma porto il mio re avanti cavallo E8 comincia a farsi notare l'assenza di mosse buone per il nero notate come io non ho avuto fretta di catturare in E7 quel pedone cascherà comunque vada lo prendo adesso alfiere G7 re F4 per difendere l'importante pedone torre C7 non voglio togliere la torre dalla colonna D e dalla posizione in D7 per non migliorare la posizione del suo cavallo quindi torre DC in D4 chiaramente qua moltissime mosse vincono ma andiamo abbastanza veloci perché cambiate l'idea mantenere una torre nelle posizioni buone torre di A7 adesso dobbiamo cambiare per forza alfiere in D8 minacciando il pedone A5 torre A7 cavallo F3 andando finalmente in G5 come da pronostici originari C5 torre D1 C4 cavallo C5 torre A6 difende di nuovo il pedone torre D7 riprendiamo la settima A4 scarseggiano le mosse torre B7 B3 B3 presa piccolo trucchetto che non funziona B per A4 torre A4 cavallo E4 con calma C per B torre per D torre C4 qua di nuovo delle imprecisioni in posizione stravinta ho giocato C3 ma non ce n'era neanche bisogno vinceva immediatamente torre B8 ma qua ormai vincono tutte cavallo C7 presa presa torre B8 alfiere F8 cavallo F6 scacco ando va il re l'unica per difendere l'alfiere è la G7 ma si becca cavallo E8 e perde la torre bene ripiroghiamo un po' i concetti che ho usato fino adesso ovvero sia arrivati a questa posizione noi abbiamo attuato dei delle mosse che fanno parte di un piano coerente ovvero innanzitutto difendere il pedone E5 e al contempo limitando l'alfiere G7 identificare subito la manovra corretta del cavallo che deve andare a beccare E6 in quanto unico pezzo che può farlo e quindi non cambiandolo preparare l'alfiere nella giusta diagonale per impedire un pezzo che vada in C5 e poi attaccare di nuovo E7 coordinare nel torri per sfruttare la colonna aperta e quindi approfittare della colonna aperta per infilarsi per penetrare il territorio nemico molto ficcante come strategia è stato tutto abbastanza logico nella sua esecuzione con un po' di imprecisioni dovute anche al fatto che era una partita lampo e che era abbastanza rilassato come ho detto qua cavallo G5 era massacrante istantaneamente ma comunque il concetto è sempre lo stesso costringere i pezzi nemici in posizioni pessime e non attive per difendere pedoni strutturalmente deboli da sempre mio obiettivo di attacco che ha condizionato l'intera partita migliorare la posizione dei pezzi e lasciare nelle loro posizioni i pezzi buoni e fare nitreggiare tutti i pezzi dell'avversario e con calma avanzare migliorando sempre la posizione ma mantenendo i target strategici come in questo caso la settima quando la si perde la si riconquista velocemente l'avversario in assenza di mosse poi viene lasciato nel suo brodo e tutto si velocizza facilmente bene spero che abbiate capito anche il modo con cui un maestro spiega le cose anche in queste chiacchierate easy molto semplici semplici per giocatori che io chiamo scamorse ovvero abbiamo visto nella prima lezione lo ripeto vantaggio a gratis pedoni isolati doppiati su colonna aperta nella seconda pedoni doppiati dall'apertura poi diventano isolati poi si crea la colonna aperta nella terza pedoni doppiati isolati non su colonna aperta su colonna centrale chiusa che viene aggredita con un insieme di strategie i concetti strategici come questi visti nella loro totalità vanno via via resi sempre più complicati e portati nel diciamo calderone dell'esempio di partite concrete io in quanto maestro giocatore agonista e insegnante sono contrario a spiegare i concetti singoli tipo infilata deviazione bla 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 ma preferisco guardarli in un quadro organico più complesso per oggi è tutto cerco sempre di fare video veloci ma non ci riesco perché è più importante chiudere il cerchio del discorso mi raccomando divulgate il canale quanto più potete iscrivetevi 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 perché il canale viene reso più visibile quanti più iscritti e quanti più like ci sono bacioni ciao a tutti alla prossima lezione bye